Senti, stregatto, dovresti smettere di portarmi ospiti senza avvisare. Eh sì, lo so. Lo so, non avevi niente da fare, vieni sempre qui. Dovresti cercarti degli amici. Aspetta, siamo noi amici. Senti, forse, cosa intendi tu? Eh? Vabbè dai, vatti a sedere, è l'ora del tè. Chi sei? Io sono la cappellaia. Sì, oggi il cappello è molto piccolo, non lo vedi? Ho scelto un abbigliamento più consono alla situazione. Beh, oggi è il mio non compleanno. Beh, sarebbe il mio non compleanno da quando... Ah sì, io ho il mio non compleanno dal giorno dopo in cui sono nata. Forse. Beh. Accomodati. Sì, prego. Certo che è. Scusa, ma... Che strano abbigliamento. Da dove vieni? Ah, non lo conosco. Beh, io vengo da esattamente qui, credo. Comunque, l'ora del tè è la mia ora preferita. Ti piace il tè? Come? Non hai mai festeggiato il tuo non compleanno col tè? Strano, pensavo lo stregatto te l'aveste detto. Allora, che iniziano i festeggiamenti. Vediamo un po'. Questo dovrebbe andare bene. Mi so che dobbiamo cambiare... Teiera. Qualcuno sta facendo la nanna? Vabbè, scegliamo prima il tè. Che dici? Scusa, ero un po' sovrappensiero. Dovresti spostarti. Sì, sì, guarda, senti un po' più in là. Qual posto è occupato? No. Non so da chi. È occupato. Allora. Oggi il bianconino non si è ancora fatto vedere. Strano. Di solito è sempre puntuale. Chissà cosa è successo. Allora. Abbiamo questo tè. Però... Non mi sembra tratto. Ci vuole qualcosa di più dolce per festeggiare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vaniglia. Vaniglia. Com'è? Ti piace la cannella? Allora, quello che fa per te. Passami la tazza, per favore. Sì, quella lì. Quella. No, ma la tazza ce l'ho. Allora, ti metto un po' d'acqua. Questa dovrebbe essere. Questa è un po' d'acqua. che vogliono. Odiano il loro lavoro, mi sa. Ovviamente anche per me. Vieni. Vieni. Il tè è in preparazione. Desideri qualche galletta? Sì. Quante? Ok, allora facciamo il doppio. Ecco qua. Lascialo preparare. Lascialo preparare. Devo finire? Un cappello. Sì, sì, è più grande di quello che indosso. Molto più vistoso. Lascia giù le mani. Non è pronto. Che cosa? Scusa, ma quando è il tuo compleanno? Ah. Quindi oggi è anche il tuo non compleanno. Allora festeggia. I non compleanni sono i giorni più felici. perché puoi bere il tè. Certo. Solo durante i tuoi non compleanni. Com'è? Vuoi qualcosa da mangiare? guarda. Lì ci sono un po' di biscotti. Li ha fatto il bianconiglio. Cultura perfetta, ovviamente. Sempre puntuale. Tranne oggi. Aspetta. Oggi è il suo compleanno. Non può festeggiare. Bene. 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 è da tanto tempo che non ho ospiti da altri paesi. L'ultima è stata una certa Alice 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 lo vorresti un cappello? fa vedere hai una testa piccola forse ho in mente qualcosa? si, chiudi un attimo gli occhi devo misurare non sono arrabbiata no, non sono pazza sono matta al massimo qui siamo tutti matti anche tu è giusto anche il tempo è un po' matto finisci che peccato beh allora te ne do ancora un po' ma è sempre là te glielo sbagliato è finito mi dispiace si, ho capito non ne vuoi più volevo tartano ancora un po' va bene è il momento di andare allora ti saluto al prossimo non compleanno ciao no beh, la strada non lo so credo sia da quella parte però leggi i cartelli perché se da quella parte allora devi andare dall'altra si ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti